Anche in Grecia sono ora a pagamento le buste di plastica in supermercati e negozi. Al fine di limitare l'inquinamento ambientale causato dall'uso estensivo di sacchetti di trasporto non biodegradabili, il costo di questi ultimi è fissato in 4 centesimi l'uno. Questa impiegata puntualizza l'importo del singolo pezzo, specificando inoltre che il prezzo sarà incluso nello scontrino della spesa. Sostengo questa decisione. Il problema è vedere se verrà implementata o meno, perché ci sono molti negozi che non addebitano la busta di plastica e ne danno in abbondanza, senza limiti. Certo è che molti cittadini ellenici sono tutt'altro che contenti del nuovo costo aggiuntivo. La proprietaria di questo supermercato dice alla gente non piace questa misura, non perché non vuole proteggere l'ambiente, ma perché ritiene che sia imposta un'altra tassa. I sacchetti di plastica biodegradabili staranno ancora gratuiti, mentre i chioschi e gli ambulanti potranno continuare a distribuire gratuitamente buste non biodegradabili.